L'azienda agricola San Pietro Appettine è innanzitutto un progetto, un sogno di vita realizzato attraverso tre generazioni. È un'azienda costituita da 500 ettari di tartufaglie naturali, tutte in Umbria, in una situazione in cui è possibile in un unico contesto geografico trovare tutte le specie di tartufo, quindi bianco, bianco pregiato, nero e neorestivo. Unita quindi all'azienda agricola raccolta del tartufo fresco c'è un laboratorio sempre di famiglia, uno dei più antichi d'Europa, e se stiamo e facciamo questo lavoro dal 1948 utilizzando nella lavorazione e nella trasformazione dei prodotti appunto parte del nostro tartufo fresco, quello che non viene destinato al mercato della ristorazione. Quindi qui abbiamo portato i due tartufi del momento, che sono il tartufo nero di Norcia, il tubo nero pregiato di Norcia o Spoleto che è un po' il nostro fiore all'occhiello, e il tartufo bianchetto, detto anche marzuolo, che appunto è l'altro prodotto che serve a coprire questo spazio temporale. In azienda poi sono presenti anche altre tipologie, ovviamente in altre fasi della stagione. Il mio messaggio è riportiamo il tartufo al ruolo reale che ha e lasciamo un ruolo secondario come giusto che sia a tutti quei derivati che seppur fatti bene devono avere assolutamente un ruolo secondario. Quindi conoscenza della materia prima originaria, apprezzamento della stessa e quindi di rimando approccio a tutto ciò che magari la prestano in qualsiasi. Grazie per la visione!